Ciao a tutti e a tutte, sono Mimma Braccio e sono una pensionata. Vi chiedo di firmare e di fondere la petizione internazionale promossa da Paolo Ferrero. Perché? Perché la BCE può mettere a disposizione a fondo perduto quanto serve per uscire dalla crisi, come fanno tutte le altre banche del mondo. È falso dire che i soldi non ci sono. La situazione era già grave prima della pandemia. Ora molti hanno perso il posto di lavoro e molti altri lo perderanno, generando così disoccupati che andranno a sommarsi ai disoccupati precedenti alla crisi. Tutti e tutte hanno diritto ad un reddito per vivere dignitosamente, per vivere dignitosamente le loro famiglie. Occorre costituire un fondo europeo di mille miliardi per la sanità, l'istruzione ed un reddito per tutti e la conversione ambientale dell'economia. Così come sicuramente è indispensabile una patrimoniale sopra un milione di euro. Firmate la petizione. Grazie.